e benvenuti per un nuovo appuntamento con l'arca degli animali con i nostri amici a quattro zampe buona domenica Elena Bonini e tutti i volontari dell'arca buonasera buona domenica a tutti allora settimana che è stata dedicata a che cosa di fuoco un sacco di cuccioli veramente tantissimi tantissimi recuperi tantissime anche anche qualche adozione dire la verità siamo contenti perché ce l'abbiamo fatta anche di far adottare dei cagnolini dei gattini però l'emergenza cuccioli purtroppo in estate è veramente veramente grave abbiamo perso il conto veramente una cosa incredibile ne sono appena arrivati 11 ma è la prima estate che succede una cosa del genere o è proprio un fenomeno che si ripete ogni estate? no è un fenomeno che si ripete ogni estate purtroppo perché con i calori estivi è un disastro tra cani e gatti è sempre sempre un disastro quindi non sapete più davvero dove piazzarli abbiamo recuperato 11 cuccioli non sappiamo più dove metterli tra noi i nostri collaboratori volontari non ce la facciamo più tant'è che tra un po' partiranno degli aiuti per la provincia di Latina perché anche lì sono allo sbaraglio completamente quindi siamo un po' da questo punto di vista presi e quindi è stata una settimana un po' importante da questo punto di vista dai vediamo come al solito se riusciamo noi con la nostra trasmissione oggi a darvi una mano in tal senso e allora vediamo subito la pagina facebook dell'arca degli animali intanto scorre sotto il numero di luciana la mail a cui fare riferimento i fratellini di cosimo tutti sani e salvi si trovano in un canile futura taglia media qui li vediamo sono tutti bellissimi sono stupendi hanno circa 3 4 mesi guardate che meraviglia anche questi sono stati recuperati e diventeranno dei bei cagnoloni guardate che meraviglia uno più bello dell'altro uno più bello dell'altro non so come si fa è vero che danno tanto cioè danno da fare per carità bisogna avere anche le possibilità però allora per esempio io dico sempre spendete una volta sola per una sterilizzazione se non sapete poi che fine faranno gli animali no non è che uno dice sterilizzati gli animali perché gli piace di dirlo no perché poi si evitano tutte queste cose no perché poi far soffrire degli animali inutilmente evitiamo di metterne tanti in strada monte no decisamente si basta una volta sola la sterilizzazione insomma a far capire però queste cose le persone perché non è così qui abbiamo Kate una Jack Russell pura che arriva da Roma a due anni e qualche mese cerca casa è meravigliosa veramente come ben sai Jack Russell ha un caratterino un po' tutto suo però insomma uno in braccio in questo momento che sta dormendo e che ha due mesi e che si fa sentire quindi è vero che hanno caratteri particolari però sanno dare tanto e quindi se riuscite veramente a dare un'adozione a questa questa cagnolina vi saprà ricompensare in un modo che neanche vi immaginerete anche perché guarda io penso sempre che i cani non dico perché allora c'è anche da dire questo che magari una persona ha bisogno un cane particolare per fare un determinato tipo di lavoro per carità perché ci sono i cani da pastore ci sono i cani che sanno fare salvataggi in acqua quando gli viene insegnato eccetera però io dico se volete un animale da compagnia pura e semplice che non avete esigenze particolari adottateli veramente ci sono dei cuccioli spettacolari ci sono dei cani un pochino più grandi che meritano tantissimo se vi serve un animale da compagnia c'è pieno dappertutto veramente non lo so affidatevi delle persone serie che alla fine la maggior parte delle volontarie lo fanno fuori ecco qui anche per dire una spitz che è andata via questa settimana e aveva una faccia che era un programma qua era in stallo della nostra Anna è una specie di spolverino barra non lo so era simpaticissima stupenda veramente stupenda l'hanno già adottato tutto a posto si vede che sono proprio guardate la faccia era una roba stupenda io quando sono andata a vederla un attimo ho detto dovete farmela conoscere perché era fantastica davvero un bauletto che cammina portissima quindi speriamo davvero che lei possa davvero avere trovato una casa definitiva e invece purtroppo è ancora dietro a queste a queste sbarre a questo box booster bellissimo lupetto dal carattere solare bellissimo che adesso al rifugio la fenice di Limbiate ha avuto una storia un po' particolare alle spalle se andate poi sulla nostra pagina c'è scritto tutto noi cerchiamo sempre di condividere chi ci chiede aiuto insomma nel limite del possibile perché le richieste sono veramente veramente sempre tante cerchiamo di fare il possibile per quanto ci è possibile appunto perché poi non avendo neanche un rifugio nostro non sappiamo proprio più dove metterli cioè gli stalli si possono fare fino a un certo punto perché poi le nostre case sono quello che sono e dopo un po' si è al completo non puoi continuare a mettere 5, 6, 7, 8 cani in uno spazio microscopico nel senso perché comunque sai poi diventa anche stressante per loro almeno se avessero il loro spazietto per poter girare per poter fare le loro cose sarebbe proprio bello infatti ci stiamo sempre impegnando a cercare questo rifugio se ce la faremo prima o poi avremo anche noi se qualche anima buona che ci ascolta insomma mettesse a disposizione una struttura un po' di verde un vecchio cascinale insomma qualcosa insomma che deve essere risistemato dalle parti del godierese con tanti sacrifici perché comunque ci vogliono tanti tanti sacrifici per fare un lavoro di questo tipo però noi non ci scoraggiamo se qualcuno ci vuole dare una mano siamo qua ecco perché almeno potremmo fare anche di più nel senso che se ci sono dei recuperi da fare degli stalli queste cose qua riusciremo anche a gestire diversamente sì allora mamma e cucciolini in arrivo a Milano dalle nostre volontarie adottabili da fine mese ecco qui altri cuccioli dicevi prima insomma è la settimana dei cuccioli recuperati abbiamo l'ennesima dimostrazione è la settimana dei cuccioli veramente siamo oggi abbiamo anche fatto un bel carico di cibo per cuccioli sono andata personalmente a recuperarlo perché eravamo appunto senza cibo ultimamente abbiamo già distribuito tutte le scorte che avevamo perché appunto ci sono queste emergenze quindi lanciamo anche questo appello se qualcuno avesse appunto delle sacche di alimenti da donare all'arca degli animali chiamate il numero in sovraimpressione o scrivete la mail qualsiasi noi usiamo veramente tutto nel senso che va bene qualsiasi cosa stamattina ce l'ho fatta di trovare del mangimi apposito per i cuccioli perché comunque sai si cerca sempre di dargli il meglio possibile perché insomma visto che sono cucciolotti che sono in crescita si cerca di fare quel che si può ovviamente le donazioni che vengono fatte durante l'anno se qualcuno appunto contribuisce con noi attraverso anche la distribuzione del libro che avevo scritto tutto quello che è stato distribuito abbiamo usato per comprare cibo medicinale ci tengo sempre a dirlo perché comunque è giusto che le persone sassino si la trasparenza deve essere alla base di qualunque associazione voi poi lo fate insomma da una vita quello che viene donato noi diamo sempre se c'è bisogno quando abbiamo l'emergenza perlomeno siamo lì ecco a proposito di cuccioli un'altra serie di cuccioli in cerca di casa guardate qui futura taglia media giù a Latina in provincia di Latina dove appunto andrà il nostro prossimo carico di cibo perché comunque cerchiamo di aiutare anche loro per quel che si può non è sempre facile perché comunque sai quando sei lontani è sempre un po' difficile però quando si può si fa ecco vi ricordo anche la nostra wish list di Amazon se qualcuno volesse contribuire adesso poi pubblicherò il link sulla pagina in modo tale che ho inserito appunto del cibo per i cuccioli sia umido che secco per quello che offre Amazon nel senso ho cercato di prendere le cose più convenienti ecco quindi anche su Amazon c'è la possibilità di aiutarvi poi viene consegnato a casa mia perché ovviamente io sono diciamo addetta alla distribuzione tutto quello che viene qua poi viene fotografato viene messo sulla pagina viene distribuito a chi ha bisogno ci tengo a dirlo ecco la piccolina la piccola Giada che fa parte della dinastia Spizzi insieme a Cioffi mamma e papà umani ecco Giada ha trovato veramente una bella famiglia esatto esatto si si se lo merita perché guarda è proprio simpatica è fortissima davvero la guardi in faccia ti viene da sorridere perché è stupenda ecco Cosimo è il fratello dei primi ecco dei primi cucciolotti abbiamo visto all'inizio esatto tutti recuperati quasi quattro mesi quattro mesi si sono bellissimi lui è una roba guardate che meraviglia stupendo stupendo e arriverà appunto tramite staffetta in nord e centro Italia quindi se volete davvero dare una mano arriverà in taglia media tra i 20 e i 25 chili e tutti i fratellini e le sorelline che avete visto all'inizio che poi potete sempre andare a rivedere insomma ci sono tutti i numeri di telefono ovviamente noi affidiamo sempre gli animali con delle visite di preaffido dei colloqui di preaffido perché comunque ci teniamo che i nostri animali vadano a stare bene a volte ci capita anche che ci dicano eh no ma perché cosa li fate a fare no? le visite preaffido caspita è la cosa più importante alla fine no? comunque sai a volte uno ti dice no magari ma io ho sempre avuto cane non ho mai avuto di questi problemi no? capita anche questo dipende no? un po' delle persone infatti non è che vogliamo andare a rompere le scatole alle persone no? è semplicemente che ci fa piacere sapere che i nostri animali stiano bene ecco tutto qui perché è logico che se una persona prende dei cagnolini da un allevamento comunque da un privato che magari ha avuto una cuccionata è logico che magari il privato a volte dice beh io ti ho dato il cagnolino a posto così ma noi essendo un'associazione ci tengo a dirlo che lo facciamo proprio per sicurezza per evitare di avere dei ritorni per evitare di avere tanti problemi dopo no? e quindi così tutte le associazioni serie fanno così almeno da quello che posso aver visto io fino adesso si comportano tutti così guardate guarda qui ancora quanti altri cuccioli che ci sono è la fiera veramente la fiera e poi sterilizzate veramente perché è importante per evitare tutte queste bocche da sfamare che poi non si sa neanche come fare tante volte no? perché comunque le risorse sono quello che sono no? è una spesa è una spesa indifferente per tutti anche medicinali antiparassitari anche qui anche qui guarda 11 cuccioli addirittura 11 cuccioli più la loro mamma sono quelli che sono arrivati questa settimana la mamma è una mix mare e mamma quelli sono un taglia grande da adulti ma sono stupendi sono veramente belli veramente belli lì c'è da stabilizzare un po' la mamma perché era veramente un po' magra ecco poi sai 11 cuccioli ti impegnano quindi sai com'è sono tutti adottabili tra un po' perché adesso sono ancora piccolini però se li volete prenotare benvenga ecco benvenga assolutamente guardate che truppa mamma mia davvero c'è da mettersi le mani in caffè di povera mamma che ha dovuto allattarli tutti eh sì e non si sa neanche come abbia fatto perché comunque sai eccola qua guardate che meraviglia bella veramente questa è la mamma anche lei ovviamente sarà adottabile speriamo di trovare casa anche a loro davvero perché ne vale la pena insomma non lasciarli crescere in strada insomma ecco Kiria bellissima due anni sette o otto chili anche lei bellissima cerca casa assolutamente adesso si trova in un rifugio anche lei per lei speriamo di trovare di trovare una bella casa guardate che meraviglia piccolina provate a chiamare anche per lei insomma guardate che orecchie o abbiamo invece una cavietta peruviana di sette mesi che è stata adottata adottata assolutamente che io dico è vero che le cavie sono animali molto delicati però dico perché prendete un animale di questo tipo se poi lo abbandonate cioè cosa vi fa di male una cavietta così nel senso cioè boh non prendetelo io lo dico non prendete gli animali se non se magari anche non si hanno le informazioni giuste fatevi sempre consigliare da chi ne sa o comunque dagli esperti dai veterinari da chi ha avuto questo tipo di animali non prendeteli perché sono belli in fotografia ecco ma per nessun animale dal cocorito al pesciolino rosso al cane il gatto tutti gli animali ecco questa è quella che è tornata adottata infatti guarda che bella qui in movimento c'era solo la foto qui adesso la vediamo in movimento insomma è stata adottata anche dalla fotografia era uno spettacolo sì sì faceva faceva guarda che era con quella cosa lì ah sì sì era una roba troppo bella troppo bella davvero e poi abbiamo oh questa trovato legato a un palo ma come si fa a legare ad un palo e lasciare di abbandonato un animale del genere guarda ci sono di quelle cose ultimamente in giro che mi fanno non lo so boh dubitare di essere veramente in un paese in un mondo civile davvero non solo per gli animali ma anche per gli esseri umani soprattutto per gli esseri umani le cattiverie che fanno gli esseri umani fanno ad altri esseri umani sono terrificanti quindi lasciamo perdere va non entriamo in questo discorso perché sennò è micidiale però ecco modello ribassato guardate che bello che è lui no sì è stupendo bellissimo davvero giovane e poi è giovane anche giovane esatto e qui ricordiamo ecco che poi dobbiamo ringraziare anche tutti i centri commerciali tutti coloro che vi ospitano di fuori dalle strutture insomma anche queste servono per raccogliere alimenti e in questo momento c'è veramente bisogno eh ringraziamo lì per Montebello il viridiel sempre di Montebello l'off di Dorricelle insomma tutti tutti quelli che ci aiutano il care fura quando riusciamo insomma tutti tutti quelli che ci danno sempre una mano ma adesso io non me li ricordo neanche tutti perché comunque abbiamo davvero una vasta rete di solidarietà e ringrazio veramente tutti anche quelli che non mi ricordo anche i privati che soprattutto loro anche a volte ci eh anche se avete non lo so non lo so il vostro cane è viziato come il mio per esempio non vi mangio una scatoletta noi la ritiriamo non c'è problema eh magari avete fatto la scorta perché fino a due giorni prima lo mangiava perché poi è così eh noi ritiriamo tutto non c'è problema ecco così almeno niente va sprecato e i cagnolini sono tutti felici ecco l'importante appunto è non sprecare nulla perché c'è davvero tanto bisogno quindi mai questi sono stati adottati invece questi sono a posto oh bello bello allora buona notizia e anche a me lì guarda che bella è stata adottata eh siamo assolutamente concludo guarda Diego dicendo che adesso abbiamo terminato la raccolta foto per il calendario nelle prossime settimane cercheremo di mettere insieme eh foto fare dei collagini insomma creare un calendario carino per il prossimo 2022 visto che l'anno scorso c'era il libro quest'anno faremo il calendario sperando di starci dentro con i tempi ma ce la faremo sicuramente e poi niente poi lo potrete trovare ai nostri banchetti o comunque se ci scrivete poi ve lo ve lo mandiamo eventualmente ecco insomma bisogna per cercare certo perché il vostro calendario è sempre molto di raccimolare qualcosa eh sì anche quello sì infatti allora guarda con che cosa chiudo io come ho fatto la scorsa settimana con Luciana faccio la stessa cosa ecco qua ecco qua ecco qua si è appena svegliato quindi fai i tuoi sbadigli fai vedere ah mamma mia che sonno santo cielo stupendo lui è la nostra mascotte e anche lui è stato soppratto a un giro di contrabbando che purtroppo è arrivato dal napoletano ed è arrivato qui in una zona della Lomellina e l'ho intercettato per fortuna e siamo riusciti subito subito ad avere lui e le sue sorelline insomma ovviamente io ci tengo a ringraziare sempre le nostre le nostre volontarie che ci sono al sud perché guarda veramente loro si si fanno in quattro no per tutte le cose brutte che ci sono però ci sono anche tante cose belle che che si possono raccontare del sud ecco perché a volte magari passa questa immagine del sud che dici oddio no non fanno niente per gli animali non è assolutamente così ci tengo a dirlo perché veramente ci sono delle ma infatti voi siete collegati appunto anche a delle reti che sempre ecco cerchiamo davvero di aiutarli tutti 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 non guardando la zona geografica dalla quale provengo guardando ovviamente in primo luogo i casi di più stretta necessità perché ci sono ovviamente animali che hanno maggiore necessità soprattutto quelli malati che hanno maggiore necessità di essere curati ed è per questo che insomma esiste l'arca degli animali esistono tante associazioni e in questo periodo estivo davvero oltre a non abbandonarli prendetevi davvero cura di loro e sterilizzateli come ha detto Elena perché così evitate poi di fare questa catena di cucciolate allora grazie come al solito Elena per la tua disponibilità salutaci tutti grazie a voi anche perché avrete un'altra settimana bella tosta non solamente a livello di caldo ma anche a livello di impegno e ci diamo appuntamento tra sette giorni sempre qui su Pavia 1 TV ancora per dare la possibilità a tutti anche a voi di insomma dare un'accoglienza degna ai nostri pelosetti ok? grazie mille Diego buona serata a tutti grazie grazie mille come sempre grazie mille grazie mille